Buongiorno Crotone, siamo qui in piazza Umberto perché abbiamo ricevuto una lettera da parte di alcuni cittadini che fanno riferimento a questa gru che c'è da moltissimo tempo e che loro ritengono un pericolo per quanto riguarda la salute pubblica. Sentiamo cosa scrivono nella lettera. Gentilissima signora Regalino, le inviamo questa lettera a certi della sua attenzione al nostro problema. Oggi si parla tanto di cambiamenti climatici e sicuramente la nostra città non è esente da questa situazione. Abitiamo nel centro della città e dalle nostre casse e ci ritroviamo da un po' di anni a vedere una gru che doveva essere usata per la costruzione in piazza Umberto del nuovo hotel, ma i lavori non sono mai terminati e come vedrà anche dalle nostre foto, la gru incombe e su di noi. L'attrezzo nei giorni scorsi quando c'è stata quell'ondata di maltempo e abbiamo avuto un po' di paura, la gru si gira e si rigira. Non è accettabile. Cambiamenti climatici significa che potremmo avere anche ondate di maltempo molto forti e disastrose. Non dimentichiamo che già abbiamo il problema dei fiumi e diventa inaccettabile dover fare i conti anche con la gru lasciata nella zona dove dovevano essere fatti i lavori di costruzione. Sicuramente lei ci darà spazio nei telegiornali e sarà letto questo nostro appello. Perché la gru deve rimanere lì? Perché non viene spostata? Perché non dobbiamo sentirci in sicurezza? Perché non si tiene conto delle famiglie che vi abitano in quella zona? Ci sono bambini e giovani che giornalmente vanno a scuola e passano nella vicinanza della gru. Ci sono persone anziane che chiaramente spesso si domandano ma come mai è ancora qui questa gru? Insomma signore Regalino contiamo sul suo aiuto. Non vogliamo provocare problemi a nessuno ma è anche giusto che si rispetti la nostra sicurezza e ci sia attenzione per le nostre famiglie. Le chiediamo di insistere perché quella gru venga spostata lontano dal centro abitato visto che di lavori per il momento non se ne parla.